Per portare a termine un'operazione serve un'esperienza, studio, concentrazione e capacità. Tanto per far decollare un aereo quanto per lanciare un'esca in acqua. Sono Roberto Ripomonti, di professione faccio il pilota. Ma quando scendo dal mio aeromobile mi dedico alla mia più grande passione, la pesca. In questa serie andremo a farvi conoscere quelli che sono alcuni paradisi della pesca del nostro paese. E allora benvenuti a bordo, allacciate le cinture, destinazione pesca. Cari amici, bentornati. Questa è una puntata davvero speciale che vivremo tra aria e acqua. Andremo alla caccia di relitti. I relitti che sono nel mare antistanti Santa Marinella, riva di Traiamo. Siamo nella provincia di Civitavecchia. Andremo a cercare, a scovare i tesori che questi relitti nascondono. E intendo pesci molto particolari. Ma per conoscere meglio la zona chiederemo aiuto a un carissimo amico che ora vado a presentarvi. Io ho il grandissimo piacere di presentarvi il mio compagno di corso d'accademia Riccardo Rinaldi. Piacere. Grazie a lui e a questo meraviglioso Raptor avremo l'opportunità di andare a vedere dall'alto le meraviglie di questa zona. Adesso salgo a bordo e cominciamo. Roberto non perde occasione per stare con la testa per aria. Volare per lui è un lavoro ed un piacere. Figuriamoci farlo assieme ad un vecchio amico e compagno di tanti anni di studio. In pochi minuti di volo Riccardo porta Roberto sopra il castello di Santa Severa e nei pressi degli scavi di Pirci. Nel corso dell'Alto Medioevo si sviluppò sulle rovine della cittadina romana un piccolo borgo medievale affiancato da un castello. Nello stesso sito del castello di Santa Severa, al limite meridionale della frazione, sorgeva già nell'età del bronzo un villaggio costiero, testimoniato da alcuni ritrovamenti ceramici. Successivamente nell'aria si sviluppò l'importante abitato etrusco di Pirci, che fu il porto principale di Chere, l'odierna Cerveteri da cui dista 13 chilometri, ed uno tra i più importanti scali marittimi di tutta l'Etruria. Frequentata da mercanti greci e fenici, Pirci fu sede di un celebre santuario sacro alla Dea Uni, assimilata alla Fenicia Astarte. La città è citata da Virgilio nell'Eneide. Sul sito dell'antico porto etrusco fu impiantata nel 264 a.C. una colonia romana, fortificata da maestose mura ciclopiche ancora in parte conservate. Nei primi anni 30, Santa Marinella divenne uno dei centri turistici di maggiore attrazione in tutto il litorale laziale. E allora amici, intanto grazie a Riccardo Rinaldi per questo meraviglioso volo. Ora basta con l'aria, andiamo in acqua, andiamo a caccia di relitti. Asia 1 e 2, Erice, Relitto Transmet, Adernau. Questi i nomi dei giganti del mare che riposano sui fondali. Oggi i nostri cercheranno di lanciare l'esche nella prossimità di questi relitti, ma dovranno avere grande attenzione. Sbagliare un lancio di pochi centimetri può significare incagliare l'amo e perdere la preda prima ancora di averla sfidata. È mattina presto, il tempo è favorevole ed anche il mare sembra calmo. Oggi Roberto è deciso più che mai a far bottino pieno. Chiari amici, è arrivato il momento di partire, andare per mare. Per far questo ci affideremo ai consigli di un grandissimo esperto locale che ci aspetta in barca, Sergio Galletti. Andiamo a salutarlo. Sergio Galletti è un profondo conoscitore del mare e delle zone di pesca. Lavora da anni come guida internazionale per gli appassionati di pesca ed è stato uno degli scopritori della zona di pesca di Los Rockes in Venezuela. Ciao Sergio, eccomi qua. Ciao Roberto, ben arrivato. Grazie. Vedo che stai già preparando, hai studiato le carte, la strategia di oggi. Che cosa andiamo a fare? Oggi ci dedicheremo alla pesca sui relitti. Poi sono una sorta di residence per un sacco di abitanti del mare, diciamolo così. Diciamo pagelli, sugheri, gronchi, murene, cernie, perché no, qualche dentice. Però non è mai, non è mai certo, non è mai scritto. Eh, la pesca è questa, se no sarebbe troppo facile. E a questo punto, cari amici, andiamo a vedere chi sono i nostri avversari da vicino. Il pagello, chiamato anche fragolino, è un pesce prevalentemente notturno. Si muove in piccoli branchi poco coesi, prevalentemente su fondali sabbiosi e melmosi. Viene spesso catturato con le reti ed è molto conosciuto per le sue ottime carni. Il mare di questa zona offre, come sottolineava Sergio, la possibilità di sfidare molte specie diverse. E per questo i nostri sono prontissimi. Arriva di Treano, di Treano, buongiorno, imbarcazione setta tre. Una volta usciti dal porto, basteranno pochi minuti di navigazione per raggiungere il primo relitto. Un milio e 06 per Pura 216, quindi qua davanti. Ora balliamo un po', passiamo in uscita di porto, ci sta anche, poi fuori dovrebbe essere più calmo. Roberto purtroppo si sbagliava. Il mare inizia ad ingrossarsi anche fuori dal porto. I nostri fanno comunque un tentativo. Mi è sembrato di vedere un gatto. Vai, 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 vai. Non è un grosso gatto, ma è un gattino. Uh, succarello, bellissimo. Beh, niente guadino, ma meraviglioso succarello. Questo è un metro d'un, d'altro che è. Le condizioni sono al limite, non si può gettare l'amo. Con il mare non si scherza. Non è possibile. Così Roberto e Sergio rientrano, dandosi appuntamento al giorno seguente. Bentornati con Sergio Galletti. Questa volta il mare sembra essere un pochino più generoso. Quanto meno ci concederà la possibilità di pescare. Però, c'è sempre un però, le condizioni meteorologiche invece in alto e in cielo sono piuttosto perturbate, temporali dappertutto. Ma non ci ferveranno queste piccole avversità. Nonostante il cielo coperto, le acque sono tranquille e le condizioni per pescare sembrano esserci. Dovranno sempre stare attenti al cielo e dalle previsioni meteo perché la situazione potrebbe mutare rapidamente. Parecchio pesce qua, sul fondo, a mezz'acqua, sui 25 metri. Siamo decisamente nei paraggi del revinto. Nel frattempo, lampi, tuoni e fulmini tutti intorno a Civita Vecchia. Asia 1, questo è questo relitto che stiamo cercando. È il primo spezzone di una nave che praticamente staziona sui 36 metri. E un pochino più avanti troviamo l'Asia 2, che è la parte terminale della nave. L'Asia fu costruita dai cantieri olandesi nel 1956. Battente bandiera italiana, la nave pesava 717 tonnellate, con una lunghezza di 55 metri per una larghezza di 11 metri. È stata affondata per contrastare lo strascico selvaggio, il 4 aprile 1987. Ecco che appare il relitto dell'Asia, che è sta nave poggiata in due tronconi a 35 metri di profondità, sulla quale pescheremo in questa prima fase. Ora si vede decisamente, decisamente bene. Pesce pieno di pesce, guarda, pieno di pesce sotto. La pesca può iniziare. Roberto prepara le esche che useranno in questi primi lanci. Ed eccolo qua, il sabichi, che serve per prendere pesci che possono essere usati per esca, ma non solo. Lo usiamo in questa fase per cercare di provare ad avere un po' di cattura all'inizio. È semplicissimo questo, veramente. L'abbiamo arricchito mettendo dei piccoli pezzi di verme o di calamaro. Adesso proviamo a ritornare sul relitto e vediamo che cosa succede. Inizia a piovere, ma iniziano anche le catture. L'attrezzatura utilizzata quest'oggi non è particolarmente complessa. Non è certamente il pesce più grande del mondo, ma è l'inizio delle danze. Il relitto dell'Asia comincia a regalarci qualcosa. Piata vincente, signore. Allora siamo passati sui pesci. Bene, bene. No, sono arrivati i pesci. Per fare questa tecnica di pesca non servono molte cose. A volte addirittura, anzi, la tradizione vuole... Oh, sta rimangiando. Vuole la lenza a mano. Nel nostro caso, ho preso un pesce, intanto continuiamo. Nel nostro caso basta una canna, in questo caso tra i due e i tre metri, che possa reggere un peso e controllare un peso tra gli 80 e i 150, anche i 250 grammi. Chiaramente funziona la profondità. Un buon mulinello potente, perché a volte capita di aggracciare dei pesci d'Italia e quindi serve un buon rapporto di recupero, soprattutto perché li dobbiamo sollevare dalla profondità. Nella pesca di oggi, se una delle prede catturate fosse di dimensioni inferiori ai termini di legge che regolamentano questo tipo di pesca, verrebbe immediatamente rilasciata. La legge è a tutela dello sviluppo e del mantenimento in salute del mare e della sua fauna, che spesso è messa a dura prova da pesca selvaggia ed episodi di bracconaggio. Però, una perchia. Una pirchia. Chiamasi perchia. E questo invece è il pagellus. Questa è già un'altra cosa. Si inizia a recuperare con frequenza, così Sergio lancia la sua sfida a Roberto. Allora, Roberto, partiamo con questa sfida. Numero di pesci, senza pensare a razza taglia. Numero di pesci, chi perde lava la barca a rientro. Ammazza, è grossa! Eh, vabbè, chi perde lava. Chi perde lava. Va bene, ci sto. La sfida inizia sul 2 a 2. Hai capito? Un altro pagello. Perché 2 a 2 saremo già 14 a 0. Lui ha preso due pagelli, lì ha preso due... Continua a piovere, ma il sole inizia a fare capolino, portandosi dietro l'arcobaleno ed un nuovo pesce per la lenza di Roberto. È arrivato il pagello, credo. Sì, 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 pagello. Un pesce che si rifene, un pesce che tira. Un pagello sicuro e anche... Il pagello sicuro è una specie di uova, di pagello. Sì, una specie... Che specie è? Un pagello sicuro. Un pagello sicuro. Certo, se smettesse di piovere, sarebbe anche meglio. È sicuro. Eccolo! Eeeh! Colore! Doppietta! Opla! Non è bello, eh? Doppietta! Questa cascata rosa di delizie del mare. Questo è piccolino e ovviamente si rilascia. Opla! Come si usiamo gamberetti di paranza. Eccoli qua. Innescati. Dei vermi. E abbiamo anche qualche piccola sardina da fare a pezzettini. Gamberetto intero, un gamberetto a pezzettini, un vermetto e due o tre piume di sabichi libere per prendere i pesci a mezz'acqua come i sugarelli. Roberto utilizza esche diverse per cercare di attrarre specie diverse ed aumentare il suo bottino per non dovere poi lavare la barca a rientro. Però... però mi sa che la sfida la sta vincendo Sergio perché ha preso dei pagelli più belli. Io li ho presi quanti di lui ma i suoi sono decisamente più belli. Siamo pari al numero ma la qualità è migliore la sua. Sì, perché? Perché è un fragolino? No, è un fragolino alto. No, no, ma ho avuto tante mangiate, vedi, mi hanno pulito. Questo lo rilasciamo però. I pesci hanno una dimensione standard per cui possono essere trattenuti. Quelli troppo piccoli vengono rilasciati. Bellissimo pagello. Eccolo qua. Colori sgargianti, pesce di taglia. La giornata è radicalmente cambiata. Ora splenda il sole e la sfida continua a colpi di recuperi. Un arcobaleno incredibile alle spalle. Ci spostiamo. Adesso andiamo a vedere un altro relitto. Il relitto dell'erice. Il piroscafo erice fu costruito nel 1919. Era lungo circa 100 metri per 2350 tonnellate. Affondato durante un bombardamento il 14 maggio 1943 alle ore 15 e 30 a 6 chilometri a largo del porto di Civitavecchia. Come stiamo pescando sui relitti? Abbiamo un vento che ci fa derivare lentamente. Il primo passaggio è sul relitto in modo da poter capire come ci spostiamo sorvolando, cosiddetto, appunto il relitto. Dopodiché facciamo un giro a risalire la corrente e cominciamo a pescare. Sergio, c'è qualche suggerimento che chiaramente vuoi dare in questa situazione? Sì, la cosa più importante è quella di evitare di pescare sul ferro. Altrimenti non è una pescata, è un continuo perdere terminali. Questo è un momento abbastanza emozionante perché questo è il relitto di una nave da guerra, l'Erice, affondata nel 1943, sul quale, intorno al quale, proveremo a pescare cambiando tecnica di pesca perché chiaramente le profondità sono molto, molto maggiori. A volte è difficile capire la grandezza di una preda nonostante gli anni di esperienza. Sergio ci fa capire che nella pesca è meglio non illudersi troppo presto. Eh, sembrerebbe più bello. Sai, però, certe volte se ti mangio all'amo alto ti dà l'impressione di essere molto grande e invece poi resti deluso. La tecnica del volentino inizia a mettere alla prova Roberto che però non demorte. E questo invece è il sugarello, un'altra delle prede che cercavamo. Questa è la bellezza di questa pesca volentino sui relitti. Devo dire che l'Erice sta regalando delle belle soddisfazioni. I recuperi da queste profondità sono impegnativi perché stiamo lavorando a quasi 100 metri di profondità. Però, però, ci regala delle delizie. Eccone qua, che capolavoro. Opla! Questo è un altro tipo di preda dei nostri fondali, cosiddetto pagello bastardo. Poverino, mi dispiace che abbia un nome così infelice, però è un pesce molto, molto bello e anche molto buono. A pagello risponde pagello. Anzi, pagellone. Eh, bello, questo è bello, bello, bello. Bello e buono. La stanchezza inizia a farsi sentire e dal lamo c'è un pesce piuttosto vivace. Roberto spera in un pagello per avvicinarsi a Sergio. I nostri sono ormai alla fine dei giochi. La sfida è durissima. A colpo bisogna rispondere con un altro colpo. Sono stremato dalla fatica di questo bolentino di grande profondità. Mi verrà un avambraccio di ferro. Meglio perché devo dimagrire, devo tornare in palestra. Questo è un bel allenamento. Un po' sedentario, insomma. Roberto, con quest'ultimo pagello, chiude la giornata. I nostri si preparano a rientrare, mentre alcuni delfini che stanno facendo merenda fanno capolino dal fondo come per salutare i nostri pescatori. E Sergio, in zona Cesarini, mette la parola fine alla sfida. Temo che questo ti faccia vincere la gara, mio caro Sergio. Ahimè. Me tapino, me meschino. Il nostro Roberto è uno che non molla e con un estremo tentativo cerca di rimettersi in pari. Ma ahimè, la preda è troppo piccola e viene rilasciata. Questo non rimetti in acqua perché è troppo piccolo. Però la giornata è stata di quelle propizie. Il mare, si sa, può sorprenderti in ogni momento e proprio all'ultimo lancio Roberto recupera l'ennesimo pagello che sancisce la fine della sessione. Eccolo! Dai! Vada! Che grosso questo! Accidenti, questi che non sono seri. Guarda qua. Che pagello? Bello! Pensa, te lo stavo per far perdere. Ora il mare va ringraziato e Roberto lo fa come tradizione vuole. Quando il mare è generoso bisogna essere altrettanto generosi. Allora, mia tradizione restituire al mare qualche pesce come questo che si andava giù bello tranquillo in modo che sia ben augurante per la prossima sessione di pesca. Una giornata stupenda a cercare relitti. La sfida è stata forte. Che dici? Tiè! Penso che tocca a te. Va bene. È stata una bellissima pescata. Questo è quello che può offrire questo tipo di ricerca, questo tipo di soddisfazione. È una pesca estremamente semplice. A questo punto prendo la pompa dell'acqua e comincio a lavare la mia banca. E allora, amici, prima dei saluti la massima finale sempre collegata alla mia professione è quella di pilota. Quindi una massima che nasce dalla storia del volo. non lasciare mai che l'eroplano ti porti laddove la tua testa e il tuo cervello sia arrivato almeno 5 minuti prima. E lo vogliamo portare sulla pesca? Facciamo sempre in modo di sapere esattamente con anticipo dove andrà a cadere la nostra esca, il nostro piombo, il nostro filo. E con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!